Ciao a tutti da Poderak, in questo video parleremo di un drone che avrete sicuramente visto in un mio unboxing di circa 1-2 mesi fa e si tratta di un drone molto acquistato, uno tra i primi acquistati su Banggood per quanto riguarda il settore mini drone oggi vi parlerò della mia esperienza ma questo sul video dopo la sigla Allora, che cosa posso dirvi di questo drone? Partiamo dall'inizio, mi è arrivato dopo ho fatto l'unboxing, mi è arrivato in circa 10-15 giorni e dopo l'unboxing ho fatto diverse prove per circa una settimana e mezza, due settimane per dopo darvi una mia opinione La confezione è anche molto interessante perché dentro ci sono addirittura le istruzioni in italiano 4 eliche di scorta, il caricatore per quanto riguarda la batteria, l'ipo e poi ovviamente il drone Ma cosa è successo due giorni prima circa della recensione? Mi si è rotta la batteria In poche parole, la batteria è composta da due fili, uno rosso e uno nero, polo negativo e polo positivo E questi due fili sono attaccati ad un adattatore, se così vogliamo chiamarlo, in plastica Che cosa è successo? Questi due fili si sono sfilati da questo adattatore quindi non avevo modo di attaccarlo più al drone questo adattatore Quindi praticamente il drone non potevo utilizzarlo perché la batteria non c'era Nonostante io abbia provato a infilare quei due cavetti dentro i piccoli fori dell'adattatore Purtroppo questi fili continuavano a sfilarsi quindi era praticamente inutilizzabile il drone Allora io che cosa ho fatto? Ho contattato l'assistenza di Banggood che gentilissimo in meno di 24 ore mi hanno risposto E mi hanno proposto addirittura non di inviarmi una batteria sostitutiva ma di inviarmi addirittura proprio un drone nuovo E questo non solo mi ha permesso di avere il drone vecchio ma mi ha permesso di avere un drone che funzionasse E così è stato, dopo altri 10-15 giorni mi è arrivato l'altro drone e ho avuto modo di pilotarlo ancora per una settimana, due settimane In modo da testarlo nuovamente e dirvi dopo un mio parere Ma colpo di scena anche il secondo drone mi fa una brutta sorpresa Dopo questo periodo che vi ho detto l'ho messo in scatola e l'ho tenuto lì giusto mezza settimana Per poi uscirlo di nuovo, fare la solita routine di associazione con il radiocomando E purtroppo questa associazione non avviene in alcun modo Ho provato a sostituire le batterie del radiocomando, ho ricaricato nuovamente la batteria del drone Ho verificato nel circuito che tutto fosse in ordine ma purtroppo il drone continuava a non associarsi Sicuramente sarà un problema del circuito, qualcosa che non va Ma a me è un po' da fastidio dato che comunque non è che l'ho utilizzato Prima di metterlo nella scatola funzionava tranquillamente Poi senza aver fatto niente ha smesso di funzionare e questo fa un po' storcere il naso Non vi nego però che quando ho provato in queste settimane sia il primo drone e il secondo drone Mi sono divertito tantissimo perché permettevano di fare acrobazie in casa Avevano una regolazione della velocità, avevano il tasto one key return che vi permetteva di far tornare il drone verso di voi Aveva ledless mode e funzionalità che lo rendevano per quanto riguarda il costo uno dei migliori droni da acquistare Era anche resistente perché aveva il paraeliche incorporato e poi per quanto riguarda le dimensioni era parecchio piccolo E permetteva quindi di divertirsi in ogni circostanza Purtroppo io non ho avuto una bellissima esperienza infatti in entrambi i casi il drone si è distrutto Ma per quanto riguarda invece il servizio di spedizione e il servizio clienti di Banggood devo dire eccellente Infatti nel primo caso il pacco mi è arrivato in circa 10-15 giorni E per quanto riguarda invece il servizio di assistenza mi hanno sempre proposto una soluzione a me conveniente In passato ho acquistato anche altri droni da Banggood e mi sono sempre trovato bene Purtroppo questo nonostante sia il più venduto, il più economico, il più apprezzato Purtroppo non mi ha dato una bellissima impressione per quanto riguarda la durabilità In ogni caso magari vi lascerò il link di quelle recensioni se siete curiosi di altri droni Ne ho provati tantissimi e vi lascerò anche il link di questo drone che trovate appunto su Banggood Detto questo spero che la mia esperienza vi sia servita per qualcosa Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale perché arriveranno presto nuove recensioni Seguitemi su Instagram, Facebook, Telegram Link che trovate in descrizione E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!